Sondrio Eterno capoluogo del Progencia Sondrio 20 km quadrati di estensione territoriale Città pacifica Senza criminalità 22.365 abitanti Sondrio 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 Scarpatetti è il cuore antico della città È una zona poco nota È molto tranquilla È il quartiere più caratteristico di Sondrio Sondrio Da questo quartiere si raggiunge in osservati una chiesa Ogni sabato nella piazza della chiesa c'è un mercato Alle 12.30 passano di lì centinaia di persone Sondrio è il posto perfetto è il posto perfetto 4 4 5 9 10 11 12 12 13 14 14 Grazie a tutti.